Disoccupati tra i 30 e i 50 anni, impiegati come portantini nelle attività di spallaggio dei funerali della zona senza contratto né tutede. Questo è quanto è emerso nei controlli in 17 aziende del pescherese nell'ambito dell'operazione Steel Jobs delle Fiamme Gialle sul fenomeno del lavoro sommerso nel settore delle onoranze funebri della provincia, elevate multe per 230 mila euro. Il comandante della sezione tutela e entrate del nucleo polizia economica finanziaria di Pescara, Luca Palmieri. L'operazione Steel Jobs parte da una considerazione molto semplice, concentrare l'attività investigativa della Guardia di Finanza su quelli che sono stati i settori che hanno risentito di meno delle conseguenze della crisi economica da Covid-19. I riscontri sono iniziati inviando delle richieste di documentazione a oltre 25 comuni ricadenti nella circoscrizione di servizio della tenenza della Guardia di Finanza di Popoli ed è stata successivamente istituita una vera e propria task force presso il reparto della Guardia di Finanza per analizzare la copiosa documentazione acquisita relativa a oltre 1.500 servizi funebili. Una prima evidente discresia emersa nell'analisi di questi dati è stata quella della forza lavoro risultante dai cosiddetti verbali di chiusura feretro. Forza lavoro che non trovava una corrispondenza né quantitativa né soggettiva rispetto a quelli che erano i dipendenti delle ditte che svolgevano questi servizi funebri.